Signore e signori, buon pomeriggio. A nome del Consiglio Direttivo dell'Associazione Lipitzer auguro un buon lavoro alla giuria, presieduta dal compositore italiano il maestro Guido Pipolo e dagli illustri violinisti Vincenzo Bolognese, Italia, Entuia Jansra, Mongolia, Gunnar Slarsens, Australia, Josef Anzil Levin, Israele, Sviatlana Papova, Bielorussia e Winston Ramalio, Brasile. Ancora un augurio di buon lavoro ai pianisti personali dei concorrenti e ai pianisti ufficiali del concorso, Inga Zexer e Evgeni Sinajski. Oggi iniziano le fasi semifinali. Questi sono i 14 concorrenti ammessi alla seconda prova in seguito al punteggio espresso dalla giuria e nella derivante gradatoria. Questa è l'ordine delle prove. Oggi pomeriggio si esibiranno tre concorrenti ed altri tanti questa sera. Domani continueranno le prove alle ore 10, alle 15.30 e alle 20.30. Al termine di queste prove la giuria si riunirà per decidere quali violinisti entreranno in finale. Ricordo che anche quest'anno è stato indetto il premio del pubblico, offerto da Sandra Zotar, Federico, Maurizio e Maria Clara Magris per onorare alla memoria dei musicisti goriziani, Ucci Leghissa, Umberto Corubolo, Ernesto Leonardi e Savino Lovisutti. Vi invitiamo a ritirare la scheda alla cassa, a votare per il concorrente preferito e poi inserire la scheda nell'opposito raccoglitore. Fra i brani proposti nelle semifinali, ascolteremo in prima assoluta il capriccio Fantasia numero uno per violino, brano d'obbligo scritto espressamente per questa edizione del concorso dal compositore Lorenzo Sbaffi, presidente della giuria del trentasettesimo concorso Limpizer. È presente in sala e lo salutiamo con un applauso. Passo ora a presentare la prima concorrente, Chen Yenho Anni, Taiwan, 25 anni. E eseguerà nell'ordine di Maurice Ravel, la sonata numero due in sol maggiore, di Lorenzo Sbaffi, il capriccio Fantasia numero uno per violino, di Niccolò Pagamini, il capriccio numero cinque dall'opera uno e di Camille Saint-Saën, introduzione e rondò capriccioso, opera 28. Sarà accompagnata al pianoforte da Ilga Texer. Buon ascolto. Grazie. 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 Grazie.